Stasera finiamo la grande, come Frank Sinatra vediamo My Way, il brano del 69 e questa è un'esibizione live del 70 Eh niente, volevo solo farvi vedere un sito molto, abbastanza carino dove potete scaricare musica gratis il sito è questo www.bansound.com, entro inserito anche il link sotto al video ecco qua, come vedete è molto semplice da utilizzare, Royal Active Music, possiamo scegliere la musica che vogliamo scegliere quella elettronica, ecco qua, molto semplice, da qua ascoltiamo la canzone, da qua ascoltiamo per esempio qui possiamo saltare la canzone, mentre da qua ne facciamo il download, ci dice che possiamo, abbiamo la licenza creative command oppure la licenza professional command, download, vabbè io uso Mozilla, quindi mi si apre questa schermata qui e questo file è utilizzabile anche per un video da poter scaricare su youtube grazie di 150 anni